Love Island. Un nuovo programma che sembra avere tutte le premesse per catturare il pubblico. Format di successo all'estero la speranza è che Love Island Italia appassioni anche i telespettatori italiani. Alla conduzione c'è Giulia Delellis che prima dell'inizio della trasmissione si è raccontata sulle pagine di Tele+. Qui la Delellis dà alcune anticipazioni e curiosità sul programma. Tra queste dice il pubblico da casa influenzerà le dinamiche di coppia con l'app del programma. Scaricabile da App Store o Google, questa è dunque una vera novità per i programmi con dinamiche di coppia. A differenza dei format italiani Love Island permette al pubblico di essere parte integrante di conoscenze, amori e dinamiche di ogni tipo. Giulia Delellis su Love Island ammette. Lo desideravo da tempo. Quella di Love Island per Giulia Delellis è la prima vera prova da conduttrice. A poco tempo dal debutto Giulia Delellis si dice molto emozionata e spera di fare al meglio il suo lavoro. La conduttrice ha già conosciuto i partecipanti single, che resteranno sull'isola spagnola per quattro settimane. Sulla nuova esperienza la Delellis dice, sono felice. Lo desideravo da moltissimo tempo. Sono onorata di presentare un format di successo in 18 paesi del mondo. Love Island, Giulia Delellis annuncia. Potrei dare consigli sentimentali. Per Giulia Delellis l'esperienza a Love Island è un po' un ritorno alle origini. Tuttavia se a uomini e donne era lei una concorrente, in cerca d'amore, questa volta la Delellis si cimenterà con la conduzione. Di certo però sa bene le sensazioni che si provano e lo spirito giusto con cui affrontare questa avventura. Per questo la Delellis in certi momenti salienti dello show farò delle incursioni nella villa. E potrei dare consigli sentimentali.